La seduta è aperta. Alla parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Draghi. Ringrazio la Presidente Casellati. Vorrei iniziare dicendo che non c'è sovranità nella solitudine, c'è solo l'inganno di ciò che siamo, nell'oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremo essere in piedi. Angelona, Angelona, Non solo la moneta, lasciamo un buon pianeta, restiamo nella nato, l'Atlantico abbracciamo. Angelona, Angelona, Angelona... Ditemi voi quando posso sedermi, eh? Posso ora? Anzi no, no. Si siedono seduti voi, anzi no, in piedi. Dal Vangelo contro Matteo. Amen. Ah, Zingaretti non c'è amen qui. Figurati se Zingaretti la zeccava. In quel tempo la Lagarde salì sulla montagna dei nostri debiti e disse Senza Italia non c'è l'Europa, ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Amen. Seduti. Perché ho scelto queste parole? Perché volevo dare una piccola ginocchiata nei coglioni della Lega. Euro nostro, che sei a Bruxelles, sia santificato il tuo spread e cancella noi i nostri debiti, come noi li abbiamo sempre cancellati ai nostri evasori. E non ci indurre in corruzione, ma liberaci dalle mafie. Ah, sulle mafie vi siete spenti. Vabbè, comunque il mes è finito. Andate in banca. Tu sei il salvatore o Mario Nulla ci mancherà Corre come lì Zingaretti, vieni qui. Grazie. Grazie.